Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L'articolo 3 della Costituzione ispira il lungo 8 marzo di Tirano, dove la giornata internazionale della donna verrà celebrata con un fitto calendario di appuntamenti in programma fino al 9 aprile. Sebbene infatti la parità di genere sia ormai sancita a vari livelli da leggi internazionali i diritti delle donne sono ancora tema spinoso e contraddittorio e le pari opportunità vedono l'Italia, in Occidente, ancora fanalino di coda. Articolo 3 Universi femminili è promosso dall'assessorato comunale alla cultura e grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio vuole offrire uno sguardo concentrato in particolare sulla forza e sulla creatività delle donne, sulla loro intraprendenza e la voglia di libertà a partire da una riflessione sui diritti e sull'uso distorto dell'immagine femminile sugli stereotipi promossi in particolare attraverso la comunicazione pubblicitaria e i mass media. Uno sguardo aperto oltre i nostri confini che spazia in Italia e nel mondo che vuole parlare a un pubblico femminile e maschile di ogni età. In occasione dell'apertura del programma sabato 5 marzo è previsto l'intervento dell'onorevole Micaela Campana, responsabile diritti e welfare del PD nazionale, per parlare di un tema di estrema attualità, le unioni civili insieme a due esperti giuridici. L'appuntamento è alle 21 nella sala consigliare del comune. Da segnalare martedì 8 anche la proiezione al cinema Mignon del film La bicicletta verde, opera prima, di Haifa Al-Mansur, prima regista donna saudita, che racconta la storia di una bambina, sua connazionale, pronta a sfidare le tradizioni imparando ad andare in bicicletta. E poi la scienza è un gioco ragazze. Sabato 12 le scolaresche incontrano Elena Del Giorgio dell'Università degli Studi di Milano per parlare di donne, scienze e professioni. Venerdì 18 alle 21 alla Biblioteca Arcari invece ci sarà Cristina Piolini, alpinista e ricercatrice. Ha scalato le vette più alte del mondo e lavorato in Nepal presso il laboratorio EVK2CNR. Nel programma non mancano poi iniziative dedicate ai libri e alla musica per conoscere la donna in tutti i suoi universi. Tutte le informazioni su comune.tirano.so.it